I sindacati LRSU di Brioni si sono riuniti ieri nella sede di Confindustria Chieti Pescara per il secondo tavolo tecnico sulla vertenza in corso, assieme alla rappresentante della storica Mesone dell'Associazione degli Industriali. All'ordine del giorno il confronto sulla gestione degli ammortizzatori sociali, in ballo il futuro di 321 lavoratori dallo storico marchio dello stabilimento di Penne. Al vertice, oltre ai sindacati e all'RSU, hanno preso parte per la Maison d'Altamoda Pierpaolo Petrucci, dirigente delle risorse umane, con il funzionario Massimo Cervellini, che ha rappresentato Confindustria Chieti Pescara. Il percorso tracciato, scrivono in una nota i sindacalisti Antonio Perseo, Filtem Cigelle, Leonardo D'Adazio Femca Cisla e Deborah Del Fiacco, Wiltec Wil, prevede dapprima l'utilizzo della cassa integrazione e guadagni ordinari a Covid-19. Parallelamente alla non opposizione del licenziamento e o al prepensionamento, sarà attivata una richiesta per proseguire con un anno di cassa integrazione straordinaria. Relativamente agli ammortizzatori sociali, proseguono i sindacati, siamo molto preoccupati, anche alla luce delle ultime novità emerse sulla stampa in merito al blocco dei licenziamenti, che sembrano essere non più derogati fino ad agosto. L'impianto dell'accordo è in fase di costruzione, focalizzato su un incentivo modulato a seconda della tempistica di uscita e alla vicinanza ai requisiti pensionistici. Ribadiamo con forza e ci rivolgiamo al tavolo del Mise e a tutti gli attori partecipanti di agire concretamente e celermente per orientare l'avvertenza alla migliore soluzione possibile, con l'obiettivo di limitare l'impatto sociale. Noi faremo la nostra parte fino in fondo per salvaguardare il maggior numero di posti di lavoro. A proposito di questo, conclude la nota, faremo una nuova assemblea sindacale con le stesse modalità via web nella mattinata di martedì del primo giugno. Insomma, c'è il rischio che gli stabilimenti Brioni dell'area Vestina, non solo Penne, anche Montebello di Bertone e Civitella Casanova, possano perdere centinaia di posti di lavoro. Per questo sindacati ed RSU si stanno battendo.